Una nuova scuola realizzata in collaborazione con la popolazione, un laboratorio aperto per gli alunni delle scuole elementari e medie, teso a valorizzare storie e tradizioni locali, ma anche un centro civico e l'occorrenza a punto di raccolta in caso di emergenza e di eventi sismici. E' rivoluzionario progetto portato avanti dal Comune di Pacentro in collaborazione con ActionAid, il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto di Ricerca Didattica. La progettazione della scuola per la cui realizzazione il Comune di Pacentro ha ottenuto un finanziamento di 640 mila euro è stata affidata al noto architetto Mario Cucinella. Per la fine di novembre sarà pronto il progetto esecutivo, sottolinea il sindaco di Pacentro Guido Angelilli, mentre per la fine dell'anno contiamo di indire la gara d'appalto. L'edificio che potrà contare su una popolazione studentesca di circa 80 alunni sorgerà in zona Aia Mosca, poco distante, dal centro. Ieri si è svolto intanto il terzo incontro del Laboratorio di Archilettura Partecipata, che ha visto la presenza di una delegazione dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, con sede a Firenze, che avrà il compito di affiancare la scuola per la definizione di approcci didattici innovativi, che dovranno essere calati sulle necessità del territorio, evidenziate attraverso il questionario di 400 domande, alle quali hanno risposto tutti i cittadini di Pacentro. Grazie. 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 Grazie.